Il progetto esecutivo per la riqualificazione dell'autostazione di Piazzale San Francesco è stato approvato dalla Giunta Comunale di Teramo? Sì, finalmente è arrivato un progetto approvabile, è stato approvato dalla Giunta di Teramo, il soggetto attuatore Latua, che ha avuto il compito di preparare il progetto, con qualche ritardo purtroppo, per questo è una stazione politica, è stata fatta di pungo, la zomma di spingere un po', però siamo contenti perché il progetto esecutivo è stato approvato in Giunta. Il prossimo passaggio? Il prossimo passaggio, adesso la soggetto attuatore è sempre la tua, speriamo che faccia un po' più veloce, per l'affidamento dei lavori. Che potrebbero essere affidati entro quanto tempo? Il progetto esecutivo è approvato, quindi il tempo del bando di gara è subito, diciamo subito. Che tipo di intervento si farà su quell'autostazione? Allora, l'autostazione verrà completamente riammodernata, ristrutturata completamente, ci sarà tutta la parte, l'organizzazione degli arrivi dei pullman, verrà rifata tutta la parte del ricevimento del più importante, che è il ricevimento dell'utenza, lì girano migliaia di studenti, migliaia di persone, tanti cittadini vanno a lavorare fuori, partono un mattino alle 6 e renderemo accogliente, i bagni erano completamente distrutti, quindi verrà rifatta tutta l'accoglienza, quella sala lì. Anche il consigliere Pier Giorgio Passerini ha lavorato a questo progetto che adesso si concretizza. Sì, finalmente dopo tanti anni, un progetto strategico, il Comunità di Termo ha lavorato a fianco a Tuo, che è l'entattuatore di questo progetto, e finalmente avremo una stazione all'altezza della nostra città, all'altezza della nostra provincia, che fungerà da scambio intermodale per quello che sarà la Termo del futuro, con un nuovo sistema di circolazione, di viabilità e una mobilità certamente volta al futuro e più sostenibile ecologicamente.